Il figlio fantastico, la mamma della Raffaella, la Iris, la Raffaella e questa era la sua nonna, la nonna Andreina. La sera di Capodanno, la sera di Natale eravamo sempre insieme. Foto di famiglia, ricordi di una vita. A Bellaria Raffaella Carrà è rimasta nel cuore di chi l'ha conosciuta bambina, l'ha vista crescere e volare via. Questo è Enzo, il fratello della Raffaella. Questa è la dedica che ha fatto a mia zia. Andavano al mare assieme, uscivano la sera insieme, la teneva esposta perché la Raffaella era la Raffaella. Nata a Bologna, Raffaella si trasferì a Bellaria quando aveva appena due anni. Questa è la casa in cui Raffaella ha vissuto per tutta l'infanzia e l'adolescenza insieme alla nonna e alla mamma e qui c'era il bar di famiglia dove portò ad esibirsi anche Gianni Morandi, appena sedicenne. Spesso si sedeva fuori con la nonna e la mamma e le ragazze qui intorno la ricordano sempre molto volentieri. Cosa rappresenta Raffaella per il paese? La realizzazione, l'originalità, la fantasia, l'estro, la correttezza e insomma la bellezza in generale. E' stata una donna che ha lasciato un segno importante non solo qui ma dappertutto. A un anno dalla morte il suo ricordo è più vivo che mai. Italo Angelini, amico di famiglia e storico, fotografo di Bellaria, l'ha immortalata in decine di scatti. Era sotto a casa sua al bar centrale e allora passava il pomeriggio lì. Che persona era Raffaella? Briosa molto, festosa anche. Eccola al mare in campagna negli studi di registrazione quando si chiamava ancora Raffaella Pelloni e i suoi capelli erano color castano. Dopo lei è partita in quarta facendosi bionda, è cambiato personaggio completamente e poi è partita, è andata alle stelle. Qui era nel locale della zona, faceva lo spettacolo la sera, una sera da una parte e la sera da un'altra. Con i suoi ballerini. Con i suoi ballerini. A Bellaria Raffaella tornava a trovare i parenti e per le vacanze negli alberghi della famiglia Foschi. Veniva insieme alle figlie di Gianni Boncompagni che all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, all'epoca era il suo compagno e la Raffaella stava più di un mese. Ora anche il lungomare qui porta il suo nome. La Raffaella è una di Bellaria Raffaella che ce l'ha fatta, che ha portato la sua arte ma anche il suo sorriso, la romagnolità nel mondo dello spettacolo.